Gli eterei sono una popolazione un po' mitologica che vive sulle nuvole. Kaila, la protagonista del libro, è una discendente degli eterei. Prima dell'inizio della storia hanno sostenuto l'uomo nella sua crescita sulla terra. Quando gli eterei decisero di rilasciare solo l'uomo nella sua libertà, non tutti furono d'accordo. Alcuni rimasero perché avevano amato l'uomo, altri invece avevano amato il potere e sono rimasti per amore del potere.